Le nostre carceri vengono criticate sempre in sede europea, però poi i detenuti stranieri le preferiscono a quelle di casa loro. Quindi da un lato significa che noi non è vero che siamo tanto scarsi in Europa, dall'altro dovremmo riuscire a rimandare nei loro paesi i delinquenti. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Bologna, Ignazio De Francisci, ribadisce un tema che aveva già sollevato in passato, la predilezione dei criminali stranieri per le carceri italiane. Lo ha fatto in un passaggio della sua relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario, nella quale ha fatto l'esempio di Norbert Ferre, che una volta catturato in Spagna, dopo gli omicidi commessi in Emilia-Romagna, ha fatto sapere di accettare l'estradizione in Italia. Il procuratore generale nella sua relazione si è anche soffermato sulla difficoltà di portare a termine i mandati d'arresto europei a causa delle cattive condizioni di alcune carceri straniere. Quando c'è un mandato di arresto europeo, cioè un rumeno viene arrestato qui perché ha commesso un reato in Romania, noi non ce lo mandiamo in Romania perché le carceri rumene ci risultano non conformi agli standard europei. Quindi viene scarcerato questo signore, non rimane neanche nelle nostre carceri perché il fatto non è stato commesso in Italia, quindi noi non possiamo fare un processo a questo rumeno. De Francisci ha sottolineato come l'Italia non solo sia diventato un paese importatore di detenuti stranieri che preferiscono il nostro sistema a quello del loro paese, ma diventerà ben presto una sorta di paradiso penale per i latitanti dei paesi dell'est, ha ribadito il procuratore generale. Noi cerchiamo di stare attenti, ma soprattutto col collega Candy che si occupa dell'internazionale, ma poi ci scontriamo, andiamo a sbattere contro la giurisprudenza anche della Corte di Cassazione che non condividiamo e che lascia questi ampi spazi per la permanenza in Italia dei delinquenti stranieri.